Assente, prese, presente, sono insuffiscivo. Assente, prese, presente, presenti, Capullo, Presente, assente, presente, la legge, assente, assente, la regia, assente, la regia, assente, Presente, 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 presente. Presente, 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 e visto che gli atti sono subiscaldati e che noi siamo degli atti importanti, stiamo tornando a tenere fuori bilancio. Allora io proponrei che, come la terza volta, che c'è un consiglio comandato di tenere fuori bilancio, e sinceramente non c'è quell'animo sereno in San Quinto, proponrei che votare i tempi di fuori bilancio, poi chiedi a queste tempi, che non c'è un consiglio comunale, in cui si fa un dibattito pubblico, perché nessuno ha intenzione di neppucarmi, intanto che i dettagli di consigliere facciciare su quello che fa adesso. Quindi questa è la mia proposta, spero che sia accettata da tutti i consigli di cosa. Agente del terreno, io sono consigliera di questa. Signor Presidente, signori consiglieri, io credo che dopo il mio imprezza, affinché non ci sia nessuna racconda di un po' noi del terreno non ci lasceremo mai, mai, subire in questo così cosa, da nessuno. Lo abbiamo dimostrato nel passato, lo faremo un minuto dopo che ci sarà la prossima cosa. Detto questo, mi rendo conto e voglio accettare per buona la vecchiazza del futuro. Non era questo quello che noi c'eravamo di dire. Io credo che una città come Cattoria, una città di cento mila abitanti, abbia, abbia, la necessità di conoscere, di fronte a situazioni più costanti, qual è? Qual è il postato della donna? Di questo, io credo che la richiesta che c'è stata fatta e c'è giudiziata dal suo, dal suo, dal suo consiglieri consiglieri comunali, andava solo in questa testa. E quindi parlo, non lo dico, va bene, facciamolo, ma non lo decidete voi, perché ci stanno. Non è un problema. Ma al grado di parlo, non lo dico, una città ferica retta da un'amministrazione ferica, ha il dovere di conoscere quali sono le decisioni che assume il Consiglio Comunale? Beh, se si è giudico, credo che in questo Consiglio Comunale se fosse stato fatto questo atto, che dovrebbe quello che si è stato chiesto, caro Presidente del Consiglio Comunale, che andò una volta di segni dimostrato inadeguato per la gravità che hai. Non è possibile. Sui voti, anche se andiamo sul voto, caso che vediamo. Perfetto. Non puoi impidire il Consiglio Comunale di esprimere con la migliorazione di voto, con la propria migliorazione di voto, che vuole votare il vinto a loro. Fare un braccio di ferro, così come lo fai, come lo fai inevitabilmente, mi è costretto a fare marcio indietro, mettendo a rischio la democrazia, mettendo a rischio la sicurezza dei Consiglio Comunale e dei cittadini. In questo è una cosa rarissima. Io ce l'ho detto prima, dove ci rendiamo un intervento del prefetto. Perché, in questo caso, non possiamo chiedere un intervento sanitario. Perché di questo si tratta, perché non è possibile andare avanti così. tu non puoi pensare di vogliere la parola e di dare la finisci tu. Non te lo fa tra la democrazia, le regole, si impongano, la donna tutto, si rispetto per tutti. Non puoi dare la parola con questo quotidiano tre volte e ripetere agli altri di manifestare il proprio consenso o il proprio assenso. Hai fatto delle votazioni, alcuna donna non avevo partecipato. Quindi, a questo punto qua, va bene, per cosa ci vi faccio? Voi ci hanno mai voto. Siamo d'accordo all'attività che non ci deve essere. Cioè, questa città con l'attività non merita di conoscere le cose attraverso le telefonare o portando su Facebook. Se c'è gente che viene qui in questo consiglio comunale ha anche la, come dite, la chat dobbiamo vedere non la sensibilità di informati. Ma non è possibile che ti vada avanti così perché tu non sei adeguato per questo luogo che continui in questo modo. Non è possibile. Io, io lo so e sono ancora legato in seguito della realtà è la più di questo luogo. Ma noi abbiamo un'ottolettima di prova e di fronte a una situazione politica di quello dovevamo discutere è stata messa a ripetare ancora la sicurezza di conseguenza di votare. E questa è una cosa grave che su queste cose voglio per cadere il coraggio di affrontarle faccia a faccia non di farle crescere e maturare in questa città perché questo poi è lo stato delle cose. Grazie.